Una battuta sull'Olimpiadi, questo buon portaggio politico che sta avvenendo su Pecchino, Milano e l'Italia in qualche modo dovranno essere presenti invece da Pecchino? Ne sto parlando con Malagò, anche perché in realtà io dovrei andarci o a febbraio o a marzo per il passaggio della bandiera, ci sono due passaggi della bandiera, una per le Olimpiadi e l'altro per le Paralimpiadi e quindi vedremo un po' tra me e il sindaco di Cortina, quindi sono curioso sulla cosa, oggi Malagò è a Milano, cercherò di parlarci e di capire.